Questa è la terza o quarta partita che facciamo sempre lo stesso tipo di finale. Non crolliamo né fisicamente ma crolliamo tecnicamente, cioè interpretiamo male la partita nel finale andandoci a buttare dentro, cercando delle soluzioni improbabili, facendo, scusami il termine, casino davanti e prendiamo contropiedi. Le partite vanno gestite diversamente, evidentemente è colpa mia che non riesco a spiegarmi bene con i ragazzi perché più di una volta avevamo detto la panchina come dobbiamo gestire l'ultimo quarto andando davanti, giocando ordinati, giocando larghi, sempre con il nostro avversario e col dirimpettaio di fronte mettere questa palla in mezzo, prendere le espulsioni che stavano dando regolarmente a loro e giocarci la partita in maniera certosina, non andando a buttare questi palloni, andando a fare la lotta dove sicuramente soccombiamo perché loro sono molto più marpioni, molto più pesanti, molto più pallonotisti la cosa che mi dispiace di più è che nonostante avessimo detto certe cose, nonostante stavano pagando a caro prezzo il continuare a giocare in una certa maniera, non hanno poi cambiato rotta però evidentemente è colpa mia che non riesco a impormi a non so che cosa ma sinceramente più chiaro di così oggi penso che non potevo essere grazie 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 a tutti.